bella a tutti amici youtube qui è il team zeta escape che vi parla e oggi vi mostriamo un'anteprima del mistero della villa del ciaurro arriviamoci alla grotta ci vediamo tra pochino ecco qua dopo essere arrivati alla fottutissima grotta guardate è una vera munnezza saliamo in cima facciamo un piccolo giro un piccolo giro intorno cazzo piccolo giro c'è la batteria scarica laterale di sinistra laterale cioè tuba gesù cristo stavo cadendo tuba con una parte e viale qui appare il fottuto cazzo minchia fantasma ok attenzione a non pestare la merda ci vediamo tra poco ecco qua siamo arrivati siamo saliti sul tetto ragazzi facciamo un piccolo giro sul cesso come vediamo è proprio un vero cesso scendiamo prima che cazzo minchia ci uccida ci vediamo tra poco ecco ecco qua siamo anche scesi ok e ragazzi questa è stata la nostra anteprima ci vedrete il sabato sera con la nostra gang al completo per fare questo nuovo video che di notte beh qua non possiamo invece il sabato abbiamo più tempo beh spero che il video vi sia piaciuto commentate e iscrivetevi e ci vediamo nel prossimo video ciao ciao